Temo o non temo? Temo o non temo? Voi che dite raga? Temo? Vabbè, intanto guardiamo se c'è tutto. No raga, sapete cos'è questo? È una specie di sigilla sacchetti, questo qui è il primo prodotto che ho visto quando ho aperto Temu. Vediamo se funziona. Va a pile, ce ne ho già messe due, probabilmente c'è una specie di resistenza qua e qua e toccandosi o andando a contatto con la plastica lo sigilla. Ho visto le foto che fanno così, piegano, vediamo se funziona, poi schiacciano qua in mezzo e tirano di lato. Vediamo. L'ha chiusa, funziona. Ottimo acquisto. Passiamo al prossimo. Questo qui è un adattatore per iPhone per trasferire i dati. C'è una porta USB, una porta tipo C, SD e microSD, dove lo attaccate all'iPhone e trasferite i dati se non avete per caso un Mac. Easy, semplice, ottimo, buon prodotto. Il prossimo sono queste. Sono delle cuffie in ear Bluetooth della Lenovo. È il prodotto più caro che ho preso su Temu. Sono buone. Le ho provate e ho scoperto anche un'altra cosa che non ho trovato su internet, che oltre a ricaricarle c'è anche una porta USB, dove io ci ho attaccato il telefono e a quanto pare mi fa anche da mini powerbank. Sono buone. Ne ho presi due e vediamo se dureranno un po'. Questo è il prossimo prodotto, raga. È una maschera con tutt'attorno una luce LED, una luce viola. Adesso vi faccio vedere al buio com'è. Ok, raga. Questo qui è l'ultimo prodotto. L'ho voluto lasciare alla fine perché è il prodotto che mi ha colpito di più su Temu. Queste sono le pod di ricarica. E questa è la fake e i rap. Ovviamente tutto scritto in cinese perché è tutto medicina, pure le pod. E questa è la borraccia G-motion. Emozione G. Oh, mamma mia. E vabbè, proviamola. Adesso gli metto l'acqua e gli metto anche una di queste pod. Vediamo com'è. Ok, raga. Io ho messo dell'acqua, ho preso la pod al gusto cola. E la mettiamo dentro. E vediamo se sa veramente di cola. Aspita! Sa veramente di cola, raga. Ma do. Best buy di Temu. Vabbè, raga. Spero che il video vi sia piaciuto. E... Che dire? Alla prossima!